Mendel prese gentilmente la mano e aggiunse, sei giovane, sei sensibile, intelligente e ben dotata. Devi solo imparare ad acquisire maggiore fiducia in te stessa. Il mondo può essere tuo se lo affronti con sicurezza e determinazione. Credimi! In risposta a quel tocco Olli avvertì un fremito nell'anima che non aveva mai percepito dopo la triste fine della storia continua. Ebbe paura di se stessa. Richiamò alla memoria la terza regola della casa. Mai lasciarsi sfiorare, neppure lontanamente, dall'idea di finire a letto con un cliente. Bene, quell'idea non la stava semplicemente sfiorando, la stava invadendo.